Sicuramente è una partita positiva, sono contento, ma soprattutto sono contento del risultato della squadra che è riuscita a dar continuità alle tre vittorie consecutive e ci dà entusiasmo e ci dà modo di lavorare ancora meglio e di toglierci delle soddisfazioni. Si è parlato tanto di te quando le cose non giravano all'inizio campionato, tu come l'hai vissuta e come stai vivendo questo dualismo con Viero? Il dualismo con Viero è la giusta competitività che ci deve essere in un gruppo forte, il calcio è fatto di momenti, il momento iniziale andava male per cui si prendono le critiche, si portano a casa e si cerca di lavorare per fare quello che poi si è riusciti a fare, abbiamo ribaltato un po' la situazione, però non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo continuare, però sicuramente siamo contenti di quello che stiamo facendo. Piani alti o meno in questo momento vale poco, conta poco, sicuramente è un Teramo che sta facendo risultati, che sta dando continuità e che sta crescendo di partita in partita, ecco, questa è la cosa più importante. Ma è un'altra partita che sicuramente avrà delle difficoltà diverse rispetto a questa, bisogna prepararla bene in settimana dopo la partita di Coppa di mercoledì e metterci il massimo impegno per continuare. E arrivati a questo punto, ormai avete capito cosa vuole Tedino da voi, lo chiedo soprattutto a te che sei il regista e magari hai dovuto ambientarti alle idee del mister. Ma sicuramente quando una squadra è nuova, è tutto nuovo, deve cercare un po' di conoscersi, di trovare gli equilibri più che altro in campo e magari abbiamo un po' sofferto quello, però sono stati bravi a compattarci, a lavorare sempre, a crederci e poi i risultati si stanno vedendo.